La corruzione e il riciclaggio sono un terreno di malavita e frenano lo sviluppo. Questa sera alle ore 21 al centro congressi Cursal di San Marino si svolgerà una conferenza pubblica organizzata per la prima volta congiuntamente dalla CGL e dai sindacati del Titano. Tra i relatori il vice procuratore antimafia Maurizio De Lucia e il prefetto di Rimini Claudio Palomba. Con il territorio di San Marino vorremmo e soprattutto in questo caso con le organizzazioni sindacali mettere al centro l'importanza invece di un'uscita dalla crisi, di un nuovo sviluppo che passa attraverso la legalità e non l'illegalità. Cioè che la legalità alla fine fa bene, non fa male da questo punto di vista. Però bisogna comprenderla, approfondirla, studiarla e soprattutto contrastarla. Abbiamo invitato il dottor De Lucia che è della Direzione Nazionale Antimafia così come il prefetto di Rimini che sicuramente da questo punto di vista hanno le sensibilità e anche le competenze giuste per dire anche come intervenire dal punto di vista repressivo. Ci sarà spazio anche per vicende nazionali come le inchieste sul Mose e sull'Expo che hanno ramificazioni sul territorio sanmarinese. Due aspetti in questa iniziativa che vogliamo mettere in luce. Uno riguarda la dimensione territoriale, la vicinanza fra San Marino e Rimini dimostra quanto i dati che emergono siano rappresentativi di una realtà molto inquietante dal punto di vista delle infiltrazioni mafiose, i sequestri che ci sono stati in questi ultimi tempi dei beni e delle attività produttive lo stanno a dimostrare. Però San Marino, come è noto, è un crocevia, è un luogo di riciclaggio, di danaro che anche le ultime vicende del Mose e di Expo 2015 stanno a dimostrare. Noi vogliamo accendere i riflettori su questa vicenda perché è una vicenda nazionale, una vicenda nazionale che rende evidente quanto la illegalità sia ormai un cappio al collo di questo paese. Grazie.